Buongiorno a tutti e benvenuti alla sala 1 del Trento Smart City e iniziamo appunto il pomeriggio con il professor Paolo Barbieri e il professor Enrico Zaninotto dell'Università degli Studi di Trento. Lascio la parola direttamente a voi. Bene, salve, saluto gli studenti che hanno voglia di sentirmi ancora e gli altri. Dunque oggi parliamo di Industry 4.0, che cos'è e perché dobbiamo preoccuparcene o occuparcene sia da un punto di vista sociologico e quindi con uno sguardo attento alla creazione di diseguaglianze sociali che con uno sguardo invece più economico, cioè attento più a considerazioni o anche a considerazioni di efficienza e di efficienza sociale. Chance di innovazione e rischi di esclusione. Questa cosa è organizzata a cura del laboratorio lavoro, impresa e welfare nel ventunesimo secolo dell'Università di Trento e io e Enrico siamo fra i promotori di questo laboratorio. Ci congiungiamo al tema di tutto questo ambaradane, cioè la speranza di appartenere e vedremo le chance di appartenere piuttosto che di esclusione, di essere esclusi, che possono derivare anche dall'innovazione e dal processo che per brevità chiamiamo di Industry 4.0. Allora che cos'è? È un processo di concentrazione e di innovazione tecnologica. Sono due processi paralleli, di concentrazione delle imprese e di innovazione tecnologica. Nel 94 le prime 100 imprese americane realizzavano il 33%, quindi un terzo del prodotto interno nord statunitense. nel 2013 realizzavano, le prime 100 imprese realizzavano il 46, quasi la metà del PIL. Quindi c'è una crescita dell'importanza di un numero di imprese ridotte che producono sempre più ricchezza. Il numero di imprese quotate a Wall Street è sceso tra il 97 e il 2017, quindi in una trentina d'anni, da 6.800, quindi da quasi 7.000 alla metà. In competition is for losers. Questo è un modo, appunto, è uno slogan che sembra riassumere il processo che si sta delineando. Questo processo si è verificato all'interno di un movimento che vede l'economia dei servizi, sempre più rilevante, le big three di Detroit, la General al motor, la Ford e la Chrysler, cioè produttori di automobili, nel 1990 avevano una capitalizzazione di 36 miliardi di dollari a fronte di 1.200.000 addetti. Quindi capitalizzazione relativamente, vedremo rispetto a oggi, piccola e un'occupazione decisamente notevole. Nel 2014 le prime tre imprese di Silicon Valley avevano una capitalizzazione di oltre mille miliardi di dollari a fronte di soli 137.000 dipendenti. Vedete come si concentra il capitale. Ora, questa cosa avrà degli impatti e dal nostro punto di vista di scienziati sociali e di sociologi avrà degli impatti anche sulla diseguaglianza. Allora, abbiamo detto centralità dei servizi, il modello del capitalismo californiano, come viene chiamato, che va in parallelo con un processo di diffusione dell'intelligenza artificiale. Allora, che conseguenze avrà dal punto di vista del mondo del lavoro e del lavoro più in generale, questi due processi convergenti. Secondo Zuckerberg, la nostra generazione dovrà affrontare la sostituzione di decine di milioni di posti di lavoro da parte di dispositivi automatici. La paura è che così come era avvenuto col lavoro operaio, anche col lavoro dei colletti bianchi, l'automazione, ovviamente processi diversi di automazione, ma porterà alla distruzione di posti di lavoro e al cambiamento anche dei contenuti del lavoro. Adesso siamo tutti imprenditori, eccetera, eccetera. Allora, di sicuro l'automazione e le varie forme di ICT si stanno diffondendo. Lì vedete, fatto 100 il livello di diffusione dell'ICT nei diversi paesi dell'area OECD, questi sono dati OECD, nel 1995, ad oggi l'ultimo, 2014, chissà se funziona il pointer, no, non funziona, ad oggi siamo a valore di quasi sei volte tanto. L'Italia è un po' un fanalino di coda perché è lì più in basso, ma vedete che comunque anche l'Italia è su valori di 300 rispetto ai 100 che era la diffusione dell'ICT nel 1995. Quindi persino in Italia il processo va avanti e in alcuni settori, manifattura, ma non solo, terziario, più che altrove. Ora, dal punto di vista per un sociologo questa cosa è rilevante perché questa è la domanda che sta circolando da qualche anno fra i sociologi e fra gli scienziati sociali porta, questo processo è destinato a portare alla scomparsa delle classi medie, la famosa, no, il dibattito sulla scomparsa delle classi medie. Ora, quello che vedete lì dentro è la parte blu più chiara è la crescita, la concentrazione dell'occupazione low skill, mentre il blu più scuro è la colonna che mostra la concentrazione dell'occupazione high skill, cioè fatto 100 la struttura occupazionale di diverse aree occidentali del pianeta, quanti sono gli unskilled o i low skill, quanti sono gli high skill. L'idea era che il processo di diffusione dell'ICT avrebbe portato a un fenomeno di upskilling generalizzato. È così, con riduzione naturalmente dei posti da white collar tradizionali, ma insomma quelli che se ne sarebbero usciti in qualche modo ancora vivi alla fine del processo dovevano trovarsi con un lavoro riqualificato. E invece quello che vedete, soprattutto in fondo di là, in fondo a sinistra, in sud Europa, ad essere cresciuta molto è anche la quota di occupati low skill. E se guardiamo, questa è l'Italia, quella cerchiata di rosso, vedete che l'ha concentrato fatto 100 l'occupazione tra il 95 e il 2015, vedete che la struttura dell'occupazione è quasi equamente divisa fra lavori low skill e fra lavori high skill, con una perdita notevole di questi middle skill che sono i lavori classicamente di classe media impiegatizia. Ora, per settori trovate la stessa cosa. Quindi, quanti sono i lavori a rischio? L'Italia lì è cerchiata di rosso e vedete a rischio sicuro, a rischio elevato di essere sostituiti dall'automazione, l'OSD ci dice che sono in Italia circa un 10% degli occupati nei prossimi anni, ma complessimamente a rischio di significativi cambiamenti nel modo di lavorare o addirittura nelle probabilità di esistere ancora come occupazioni, sono il 45%. Quasi la metà, insomma, delle occupazioni oggi presenti è a rischio nei prossimi anni di essere investita dagli effetti dell'introduzione dell'automazione. Questo che cosa comporta? Questo ha comportato, o meglio, questo avviene in parallelo, sono dati macro, non stiamo facendo nessi causali di nessun tipo, stiamo parlando al massimo di processi che sembrano covariare nella stessa direzione. Quello che sappiamo è che dalla metà degli anni 70 la quota del lavoro si è ridotta, è andata riducendosi sia che la consideriate a prezzi di mercato, sia al costo dei fattori, ma comunque sia è andata riducendosi in tutti i paesi occidentali. La quota di reddito che va al lavoro, mettiamola così, è un po' grossolana, mentre dall'altra parte abbiamo un incremento, paesi dell'area OECD, quindi è una media generale, ma siamo qua per farci un'idea di più o meno dove va il mondo. Allora, quello che vediamo è una crescita della produttività del lavoro a fronte di una sostanziale stagnazione, una crescita molto più ridotta invece dei salari reali. Probabilmente il trend di crescita della produttività del lavoro in Italia sarebbe molto più basso, poi magari Enrico ci dirà qualcosa, ma complessivamente in Occidente il trend è quello, il lavoro sempre più produttivo, i salari che non seguono lo slope della crescita del lavoro. Allora questa cosa qui che cosa produce? È l'OSD, sono dati ufficiali a dircelo. Questa cosa produce una relazione negativa fra la riduzione nella quota del lavoro sull'asse delle X, delle ascisse, e la crescita dell'indice di Gini, cioè della diseguaglianza economica. Vedete l'Italia là in alto a sinistra, l'Italia è il paese dove si ha, e guardate che questi sono market income, quindi sono poco diversi dai salari, l'Italia ha una struttura salariale abbastanza poco diseguale, ciò nonostante, per ragioni di contrattazione sindacale, eccetera, 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 ciò nonostante l'Italia è il paese dove noi assistiamo a una riduzione, abbiamo assistito, tra il 90 e la metà degli anni 2000, quindi insomma stiamo parlando di 25 anni, a una riduzione della quota di profitti che vanno al lavoro e una crescita della diseguaglianza sociale. Conseguenze sociali, questo è soltanto l'Italia e questo è un recente lavoro che stiamo pubblicando, una delle tante possibili conseguenze sociali è la crescita del cosiddetto fenomeno dell'in-world poverty. Tra il 2000 e il 2014 l'in-world poverty sul totale degli occupati è cresciuto, adesso siamo circa al 12-13%, ma vedete le ultime, solo i lavoratori a termine e i lavoratori a basso salario, vedete quanto è aumentata la concentrazione di in-world poverty in queste categorie. Il mercato del lavoro si sta profondamente dualizzando e quello che trovate è che una volta entrati in situazione di in-world poverty è difficile uscirne. E qua io concludo, per la parte sociologica quello che si può dire è che se lo slogan di questa giornata è la speranza di appartenere, la speranza di appartenere sembra essere, o vediamo il rischio, che sia una speranza che appartiene solo a pochi o a una parte della forza lavoro. E' una speranza sociologicamente potremmo dire sempre più stratificata. Quindi classi sociali anche per quel che riguarda la possibilità di essere inclusi nel mondo che dall'innovazione, dall'automazione guadagna qualcosa. Questo è il ragionamento sociologico che volevo buttarvi lì, insomma i rischi dell'automazione. No, ci siamo divisi un po' i compiti e io volevo un po' introdurre un po' di discussione su quanto ha detto Paolo, con dei dati e delle cose. Allora, come introdurre questa discussione? Anche così con qualche prospettiva futuristica. Non so se meno negativa, ma insomma un po' articolata dal punto di vista dell'immaginazione futura. Allora, Paolo ci ha mostrato una cosa che secondo me è molto rilevante. C'è questa polarizzazione del mercato del lavoro che si accompagna anche a una polarizzazione dei redditi. Con un fenomeno che non è molto facile da spiegare, perché generalmente quando aumenta la domanda dei lavoratori di basso livello dovrebbero aumentare anche i salari. In realtà questo non accade mentre aumentano i salari dei lavoratori di alto livello. Quindi c'è questo fenomeno che chiamano gli economisti e i sociologi del lavoro hollowing middle. Il problema è quanto si svuota questo medio. Non solo quanto si svuota, ma se il totale è positivo o negativo. Perché quello che si sta vedendo negli Stati Uniti, noi lo vedremo forse tra un po', è che si sta ampliando questo hollowing middle. E si sta estendendo, attenzione, cosa interessante, non dalla parte delle basse skill, ma dalla parte delle alte skill. Quindi perché? Perché la tecnologia è intelligenza, intelligenza artificiale. Quindi in qualche modo fino a un po' di tempo si diceva, benissimo, si svuotano le operazioni impiegatizie, ripetitive e via di questo passo, rimangono i lavoratori manuali e i lavoratori della mente. Ma se il computer incomincia a fare cose un po' più intelligenti, insomma in qualche modo si dice che è più difficile sostituire la mano del cervello. Questo è interessante, io credo che prima o poi si sostituirà anche la mano. Però, almeno alcune operazioni mentali sono più facilmente sostituibili dal computer di un'operazione manuale. Ecco, seguire un anziano con dei problemi è più difficile che non sostituire una persona, che non sostituire per esempio un medico o alcune funzioni mediche che fanno diagnostica. Allora, si sta allargando questo medio che sparisce, questo lavoro medio che sparisce, e si sta allargando di più operando nella fascia verso l'alto, che vuol dire che le funzioni di high skill che resteranno sono quelle veramente alte, e a salari veramente, a stipendi e remunerazioni veramente alte. Questo è il primo aspetto. Seconda considerazione che volevo fare, poi arrivo un po' alle visioni immaginifiche. Quanto si svuota? Basta questo, le parti che restano compensano o no? Cioè, c'è alla fine quella che viene detta disoccupazione tecnologica o no? Allora, qua gli economisti hanno un richiamo ideale molto forte, che è un vecchio saggio di Keynes, Keynes è il papà degli economisti moderni, insomma, dei macroeconomisti moderni, poi adesso è tornato in auge. Keynes negli anni 30, non mi ricordo esattamente l'anno, 37, scrisse un saggio che io vi consiglio di leggere, perché si chiama Prospettive economiche e titolo per i nostri nipoti. Ed è pubblicato in italiano in una raccolta che ha il titolo Esortazione e profezie. È un breve saggio, sarà una ventina di pagine, senza numeri, senza cose così. Però lui sostanzialmente dice, che società si prospetta ai nostri nipoti? Si prospetta una società in cui la tecnologia, le macchine, l'automazione faranno sempre di più. Faranno sempre di più e lasceranno vuoto il lavoro. Ridurranno la necessità del vecchio Adamo di lavorare. Quindi se noi dobbiamo immaginare una società futura, dobbiamo immaginarci una società libera del vecchio Adamo. Bellissima sta cosa. Cioè, l'uomo che è stato costituzionalmente, anzi, per la Bibbia, guadagnerà il pane col sudore della fronte, si libera del sudore della fronte. Cosa ne farà del suo tempo e come si sostenterà una società che produce senza lavoro. E lui si immagina questa, bisogna prepararsi a una società libera dal lavoro. Quindi che ha altri strumenti di redistribuzione del reddito, che so io, il reddito di cittadinanza per tutti, e che fa trovare alle persone una modalità di cittadinanza diversa dal lavoro. dal lavoro salariato, dal lavoro remunerato. Questo è molto interessante, è molto bello, è veramente una visione... Perché? Perché tutta la cittadinanza, i diritti di cittadinanza attualmente sono legati alla posizione lavorativa. Allora, come funzionerà una società in cui valorizziamo attività di persone, quelli che noi chiamiamo hobby, che mettiamo al limite della vita, ad elimina, quello che attualmente è il residuo, che diventa la cosa importante, e che la società riesce a valorizzare, no? È una prospettiva... Io lo consiglio sempre ai miei studenti, non credo che nessuno mai l'abbia letto, però insomma, magari voi capita. Gli economisti però non sono tanto convinti che questa sia la storia. Gli economisti... Qua non ci sono dimostrazioni, cioè dell'esistenza o meno di disoccupazione tecnologica, però quello che si guarda è alla storia. Nella storia noi abbiamo avuto dei fenomeni di rivoluzione tecnologica altrettanto importanti, forse più importanti, e certamente con periodi di riadattamento il lavoro è stato riassorbito. Ha cambiato i settori di impiego. Il caso più clamoroso è quello dell'agricoltura. Negli anni 50 in Italia c'era il 20-25% degli occupati in agricoltura, adesso abbiamo a malapena il 3%, negli Stati Uniti a meno del 2%, in Inghilterra a meno del 2%. C'è stato un grosso trauma, anche qua, giusto per dare un po' di flavor, se voi prendete in mano i libri di Steinbeck, i Grapes of Routh, come è stato tradotto in italiano? No, furore? Furore? Ecco, c'è questa società dell'Ohio, dell'Oklahoma, scusate, gli occhi sono, che viene aggredita contemporaneamente da un problema nell'agricoltura e dalle macchine, le macchine che arrivano, i trattori che arrivano, eccetera, e c'è questa migrazione di massa verso la California, nella speranza di trovare lavoro nei fruttetti, negli orangetti della California, no? Ecco, una roba epica. Steinbeck la descrive come una cosa epica, però quello che è accaduto non è questo, questi lavoratori hanno trovato posto su altri settori, nell'industria prima e adesso nei servizi, cosa accadrà in futuro? Siamo sicuri che esista, si possa avvenire un cambiamento, che porta permanentemente disoccupazione tecnologica, o come dicono, come si dice nel dibattito tra gli economisti ci sono quelli che sostengono che no e quelli che sostengono che this time is different. Questa volta è differente. Perché? Perché queste tecnologie hanno caratteristiche particolari. Io non credo che si possano dare risposte a questo, insomma, non abbiamo elementi se davvero questa volta sia differente. Però che cosa possiamo dire? Secondo me, è qua la parte un po' di immaginazione, insomma, cerco di fare anche io. Io credo che quello che possiamo dire è questo. Che cosa c'è differente questa volta? Ma, allora, differente è la natura delle macchine, la natura della tecnologia. Sostanzialmente, fino alla precedente rivoluzione industriale, chiamiamola la terza rivoluzione industriale per comodità, che cos'è la macchina? La macchina è un oggetto che sostituisce attività umane che vengono rilasciate. Cioè, l'uomo abbandona alcune cose e queste cose le fa la macchina. Le macchine della quarta rivoluzione industriale sono macchine diverse. Sono macchine che interagiscono. in cui diciamo l'attività dell'uomo e l'attività della tecnologia si scambiano, la tecnologia si adatta, l'uomo fa alcune cose e la macchina fa delle altre. Quindi, in qualche modo, entrambi partecipano non per fare una cosa fissa, ti sposto delle cose, ma in qualche modo per quasi negoziare le attività che si vanno a fare. Questo succede, non so, nei consumi, nei servizi. Noi abbiamo delle tecnologie che permettono con l'interazione dell'uomo di adattarsi e dare delle risposte che vengono dette customizzazione, adattamento dei servizi, eccetera. Immaginate una delle tecnologie che si prospettano in un futuro che oramai non è più troppo distante, le macchine a guida automatica, no? Io definisco il servizio che voglio, interagisco con la macchina e la macchina mi porta. arriva una macchina non guidata che mi porta dove vuole. Va bene? Cosa è la grossa, che cosa comporta questa differenza, no? Di quasi questa negoziazione di attività tra uomo e macchina. Secondo me comporta una cosa un po' particolare. Ritorno al caso di prima. Cosa faceva la vecchia tecnologia? Allora, la vecchia tecnologia risolveva un mucchio di problemi, la tecnologia tradizionale, ma soprattutto permetteva di togliere attività all'uomo in un certo modo. Cerco di spiegarmi. Quando ne parliamo di lavoro, di cosa parliamo? Parliamo di un insieme, un potenziale di attività che viene ceduto. Reale, attività reali se io offro un servizio o potenziale se sono assunto per fare certe cose. Va bene? entro un certo ambito. Allora, cosa faceva la macchina? Prendiamo il sistema tecnologico fordista che è proprio il paradigma di queste cose, la linea di montaggio, eccetera. Ma io non posso separare le attività dell'uomo. Allora, cosa faccio? Faccio delle macchine che fanno delle operazioni in cui c'è una certa intelligenza, sono gli ingegneri che la definiscono e prendo, compro l'uomo per fare una cosa specifica, un'attività. L'attività che rimane è quella residuale, tutto il resto l'ho tolta e l'incorporata nella macchina e l'uomo fa un'attività molto ripetitiva, molto bassa e la fa dalla mattina alla sera. Perché questo? Perché c'è la difficoltà, bisogna separare, perché se io prendo l'uomo nel complesso devo pagarlo per l'attività più costosa che mi fa. se io riesco a portare queste attività nella macchina o in alcune categorie di persone, di ingegneri e di questo passo è quello che resta e lo posso scambiare al prezzo di mercato. Qual è il problema? Il problema è che quello che conta sono le attività, non sono il lavoro astratto e l'attività è qualcosa che appunto con le nuove tecnologie può essere molto vario ma al tempo stesso si riducono moltissimo i costi di transazione direbbero gli economisti cioè i costi di quei costi che non permettevano nel vecchio sistema di separare le singole attività dell'uomo perché se prima io avessi potuto separare le singole attività acquistare e vendere attività avrei potuto acquistare dalla stessa persona tipi di lavoro diversi ma questo è troppo costoso allora cosa faccio compro una persona sostanzialmente ma la metto nella condizione attraverso il sistema tecnico di fare solo quelle cose che mi si chiede con il nuovo sistema sarà diverso perché? perché le macchine permettono di acquistare singole attività ma non solo le attività che normalmente sono chiamate lavoro io girando nella città produco informazione questa informazione se riesco a isolarla è vendibile muovendomi produco energia se riesco a estrarre l'energia di me che mi muovo in bicicletta in piedi o quello che è questa è una componente vendibile della mia attività e via di questo passo se io ho un sistema che riesce a ambandola a separare singole attività il lavoro cambia ma cambia in modo radicale allora quello che io posso vendere sono singole attività e il lavoratore posso immaginare come una persona che si costruisce un suo portafoglio di attività possibili che applica di volta in volta interagendo con la macchina cosa vuol dire questo? vuol dire che le attività scambiabili aumentano le attività scambiabili aumentano se riusciamo a trovare delle formule istituzionali che danno forza a questo tipo nuovo di lavoro in cui non prendo le persone se vogliete fare un proprio un escurso storico se partite da prendere gli schiavi compro l'uomo poi compro il lavoro salariato quindi e questo è stato cioè Marx è stato grandissimo nel rappresentare questo passaggio devo immaginarmi un insieme di un contesto in cui il rapporto tra l'uomo e la macchina viene attraverso scambi di attività in cui l'uomo valorizza singole attività ma naturalmente se questa è la prospettiva tenetela come la prospettiva immaginifica se questa è la prospettiva io non credo che cambi credo che sia possibile costruire una società di questo tipo ma costruire una società di questo tipo richiede un modello istituzionale completamente diverso perché tutto il sistema di assicurazione sociale di welfare di riconoscimento eccetera era collegato alla vendita del lavoro inteso in senso potenziale di tempo che io acquisto da una persona e che doveva essere delimitato dalla struttura diciamo sociotecnica non è solo la tecnologia ma anche l'organizzazione che determina cosa si fa immaginare una società di questo tipo significa ridisegnare completamente le istituzioni se questa è la strada questo al momento attuale lo osserviamo in spazi molto limitati sembrano spazi marginali i cosiddetti jig non so se ne avete sentito parlare che sono quando sono tutti diciamo quelle forme di lavoretti cose di questo genere che vengono acquistati in rete con piccole attività che so io taggare fotografie ma io posso taggare fotografie posso costruire partecipare alla costruzione di un software posso insomma le attività che possono essere in qualche modo separate no e scambiate in questo sistema singole attività sono potenzialmente moltissime allora immaginate una società smart in cui ci sono questi sistemi che interagiscono con l'uomo per definire che cosa si fa il sistema produttivo per adattarsi a questo punto si ramificano e costruiscono e acquistano su mercati di attività non mercati del lavoro le singole attività necessarie e potenzialmente io credo una prospettiva almeno da non abbandonare idealmente da tenere presente che però per funzionare ha bisogno di una società di un sistema istituzionale davvero molto molto diverso dall'attuale che deve preoccuparsi di molte cose dalla sicurezza sociale a come si pagheranno paghino le tasse al e via insomma al minimo di garanzia perché dietro a queste cose ci sono anche la possibilità di mettere in concorrenza l'attività erogata dallo studente italiano con quello di Bangkok o via di questo passo però questo io credo che sia una prospettiva di lungo termine che va quantomeno considerata nel pensare che cosa potrà essere la no smart city ma la smart society una società che incorpora un genere di innovazione che è decisamente nuovo e al quale prima non si era mai assistito adesso non so cosa ne pensate se vi sembra una roba squinternata prego ecco bravo se vedete lo stesso termine si 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 socialmente ripristinare la schiavitù perché almeno in qualche modo si concede si obbliga chi chiede queste prestazioni a una responsabilità almeno nei confronti dello strumento per la creazione del reddito io sono un fisico quindi la mia è un'asservazione probabilmente siamo colleghi immagino quindi ti do del tu e mi aggancio proprio al discorso della schiavitù cioè Weber nel suo primo lavoro la sua tesi di dottorato era una ricerca sui contadini ad est che lavoravano e producevano ad est del fiume Elba che era quello che divideva un po' la Prussia dove ancora i rapporti sociali erano quasi feudali i prussiani tutta la tradizione tedesca eccetera eccetera da quanto succedeva invece all'ovest dell'Elba e lui era partito studiando un fenomeno i contadini erano quasi schiavi in queste mega tenute però perché il rapporto di servitoraggio era assoluto totale però erano lì accuditi mangiavano si vestivano avevano senz'altro più virgolette diritti o concessioni rispetto agli operai tedeschi della seconda metà dell'ottocento stavano meglio mangiavano due volte al giorno potevano vestirsi avevano un pil più basso può darsi la società nel suo insieme intendendo come pil solo una parte finanziaria del loro lavoro si fuggivano tutti fuggivano tutti a nuoto attraversando l'elba il sistema legale era ancora molto legato all'idea di servitoraggio per cui era un reato scappare abbandonare scappavano attraversavano l'elba a nuoto rischiando di affogare pur di inurbarsi nelle città della parte occidentale e andare a fare gli operai gli operai pagati che avevano meno risorse alla fine di quelle che avrebbero avuto restando là e si chiedeva ma perché è irrazionale è incomprensibile perché questi conclude Weber in questa nuova forma che era una forma di società capitalistica agli albori vedevano una speranza di liberazione dai rapporti di servitoraggio quindi la soluzione torniamo alla schiavitù per quanto provocatoria naturalmente vedrebbe gli stessi soggetti opporsi probabilmente la storia e la sociologia ci dicono vada non funziona non funziona perché saranno non i detentori del capitale quelli che comprano le attività più o meno smart saranno quelli che le forniscono che non gli va bene di fornirle mi chiedo allora siccome come fisico come fisico si fanno dei modelli e degli esempi molto semplici o magari si cerca di ipotizzare un comportamento agli assintoti mi chiedo in una società che in qualche modo introduce sempre più in maniera pervasiva le macchine quale sia il comportamento al limite nel senso che una società fatta di macchine dovrà smettere di fare scarpe perché alle macchine le scarpe non servono dovrà in qualche modo come funzionerà il modello anche perché dovrebbe io credo che ci sia una parte della nostra società che pensa sempre che ci sarà una parte umana eletta e una parte di macchine che in qualche modo agisca per soddisfare le esigenze o le volontà o le aspirazioni di quest'altra parte quindi da un certo punto di vista mi sembra che anche ipotizzando delle traiettorie di questo tipo non sia molto chiaro capire quale sarà la traiettoria io da come si dice ancora cittadino che è entrato nel mondo del lavoro prima di miei concittadini che sono andati molto più tardi mi sento da una parte comincio a sentirmi da una parte privilegiato di una cosa che ritenevo un diritto e già questo da un certo punto di vista mi preoccupa e dall'altra parte ancora di più mi preoccupa vedere che c'è in un discorso di domande offerta una sempre maggior quantità di persone che per necessità accettano condizioni di lavoro che fino a qualche tempo fa erano ritenute inaccettabili e senza mettere in discussione realmente o riporre al centro della discussione quelli che riteniamo i diritti inanienabili degli individui perché è vero che se uno vende parti di se stesso in qualche modo di quello che sa fare può venderne di più se le spacchettiamo ma che vita facendo la sintesi di tutti questi momenti che vita si prospetta a queste persone io credo che non possiamo più nasconderci dietro il ce lo chiede la finanza all'economia o chiunque questo sia dobbiamo ricominciare lo dico da fisico stranamente a dare delle risposte politiche che ci impegnino ciascuno come cittadini in quello che noi pensiamo sia una società che dia ancora speranza agli individui perché altrimenti la cosa per me è molto inquietante forse non so sarò troppo influenzato da alcune fantascienza horror fantascienza ma insomma per me è inquietante piace la sua domanda perché sarà ancora una società smart io credo che dipende da come la costruiamo e giustamente il discorso diventa politico cioè quando nella precedente rivoluzione anzi due rivoluzioni industriali fa sostanzialmente quella della fabbrica di massa del fordismo e via di questo passo si inventò questo modo la catena la linea per diciamo controllare esattamente le operazioni svolte acquistare solo quella fascia di attività del lavoro umano e costringerla a questo allora la personalizzazione del lavoro non c'era più non c'è stata più ford usava gli immigrati mettendo volontariamente un polacco un italiano un tedesco vicino in modo che non si parlassero nemmeno e tutte queste belle cose qua in tempi moderni la risposta è stata la costruzione di istituzioni diverse per esempio la contrattazione il sindacato insomma c'è stata un'attività politica che ha permesso di costruire sulla base di quel sistema un po' rivisto per carità ma di costruire una ricchezza che è già accompagnato per tutti gli anni 50 60 il miracolo economico ed è quella che non so in un film come Gran Torino vediamo nel vecchio operaio di mestiere che era quello insomma l'operario specializzato della Ford che si trova spiazzato però è stata una costruzione di istituzioni che ha dato la risposta io sono perfettamente d'accordo con lei io non so se questa che ho raccontato sia davvero la prospettiva però certamente per una parte lo sarà lo spacchettamento di attività è qualcosa che avviene al margine per adesso però insomma io ne sarei un po' preoccupato potrebbe essere molto la costruzione di istituzioni è un problema politico è un problema nostro certamente se noi usiamo le lenti vecchie per leggere queste cose non ce la facciamo voglio dire quando usiamo le lenti vecchie significa semplicemente non so un sindacato ancorato ancora a una difesa legata al posto del lavoro ma è come se non vedesse che il problema sono i disoccupati i giovani che non entrano nel mercato del lavoro con piccoli lavori e via di questo passo usare queste lenti secondo me non porta a nessuna parte bisogna prendere le lenti nuove e incominciare a fare azione istituzionale politica di costruzione di un modello sociale che recuperi elementi di benessere di giustizia di base e via di questo passo in un modello di lavoro cambiato decisamente questo è il mio punto di vista l'ultima l'ultima battuta l'istituzione che almeno dalla seconda guerra mondiana in avanti ha gestito i problemi politici era il welfare il compromesso forkeinesiano che cosa è stato in fondo lo scambio sottomissione in fabbrica versus diritti politici e sociali diritti politici va bene poi si sono diffusi per i maschi per le donne sono arrivati molto più lentamente però e diritti sociali ma i diritti sociali derivavano soltanto dalla partecipazione al lavoro mercificato tant'è che le donne non hanno lavorato perché quel modello lì per funzionare per funzionare bene aveva bisogno della piena occupazione non era piena occupazione maschile quando si parlato per anni di piena occupazione si ometteva sempre dei maschi punto ecco il modello male breadwinner è il maschio che porta a casa il family wage il salario familiare che basta per tutti che copre i bisogni di tutta la famiglia quello era un modello che poteva funzionare all'interno di un mondo produttivo come ricordava Enrico prima che era quello appunto Charlie Chaplin tutti alla catena tutti lo stesso modello di welfare a cui l'Italia è arrivata tardissimo contributivo prima c'era addirittura il vecchio retributivo adesso sembrava che il passaggio a un modello di welfare contributivo cioè tu avrai pensione in base ai contributi versati fosse chissà che traguardo lo era sicuramente dal punto di vista contabile e quant'altro ma con una struttura produttiva che per le generazioni giovani future non consentirà più di maturare i 40 erotti anni contributi o li maturerai quando ne avrai passati 60 sul mercato del lavoro tra disoccupazione allora chiaramente bisogna trovare una risposta politica da un punto di vista sociologico io direi una risposta di welfare che garantisca diritti sociali di cittadinanza avanzata che vada oltre che superi il modello la logica del modello di welfare contributivo ma se ci pensate quello che sentiamo raccontarci oggi è torniamo al vecchio modello di welfare retributivo quando oggi persino i modelli di welfare universalistici nord europei fiscali fanno fatica a stare al passo dei cambiamenti produttivi che ricordavamo prima perché i cambiamenti produttivi hanno indotto uno spedimento di valore da qui la riduzione della quota del lavoro è uno dei trend che prima ho mostrato concludiamo qui questo intervento perché appunto lasciamo spazio al professore Mauro Fauri che ci presenterà il piano provinciale della mobilità elettrica grazie